La storia d'amore di Ade e Persefone è una delle più famose della mitologia greca. Avete sicuramente sentito dire che il dio la rapì, dando origine alle stagioni. Ma prima di incontrare Persefone, Ade aveva un amante di nome Minta, una ninfa che viveva presso il fiume Cocito. Tuttavia, quando Ade si innamorò perdutamente di Persefone, Minta fu messa da parte. Alcuni dicono che quando Persefone si diresse in superficie per trascorrere la primavera e l'estate con la madre, la ninfa Minta non volle lasciare sola la sovrana degli inferi. Ma al ritorno di Persefone, Ade correva subito tra le sue braccia, lasciando la ninfa verdogna abbandonata. Minta continuò a vantarsi di essere l'entità più bella dell'oltretomba, poiché persino Ade non poteva resistere al suo fascino. Queste affermazioni fecero infuriare Persefone. La regina degli inferi non avrebbe lasciato impunito un simile insulto al suo onore. Persefone trasformò la ninfa in una pianta nota come menta. La menta era una pianta utilizzata nei funerali dell'antica Grecia. Una delle ragioni era che l'aroma mascherava l'odore del defunto. Pertanto, la pianta personificata dalla ninfa Minta si legava per sempre ai domini del suo amante. Persefone trasformò la ninfa Minta si legava per sempre ai domini del suo amante.